Voi siete chiamati ad essere evangelizzatori nella vostra regione, segnata anch'essa della scrista e all'iniziazione. Quanti sono più esposti al vento del freddo dell'incertezza e dell'indifferenza religiosa, hanno bisogno di trovare nella persona del sacerdote quella fede robusta, che è come una fiaccola nella notte e come una roccia alla quale attaccarsi. Questa fede si coltiva soprattutto nel rapporto personale, cuore a cuore, con la persona di Gesù Cristo. Il seminario è prima di tutto la casa della preghiera, dove il Signore convoca ancora i Suoi in un luogo appartato a vivere l'esperienza forte di incontro, di ascolto. Il secondo aspetto che identifica il seminario è quello dello studio. Lo studio è parte di un itinerario mirato all'educazione, di una fede viva, una fede consapevole, chiamata a diventare la fede del pastore. E veniamo alla terza dimensione, il seminario come casa di comunione. La carità pastorale del prete non può essere credibile se non è preceduta e accompagnata dalla fraternità, prima tra i seminaristi e poi tra i presviteri. Grazie. Grazie.